ecco vediamo queste secco ecco vediamo questo calcio di punizione qua tira Sofia ecco vediamo l'esito tenete tenete ha segnato Sofia numero 13 bello bello in vantaggio la Virtus Castelfrentano contro la Gladius per la prima semifinale qua Alfantini di Vasto Marina sulla statale 16 erano passati in vantaggio prima la Gladius nel primo tempo dopo pareggio della Virtus e adesso vantaggio sempre della Virtus per la categoria esordienti under 13 misti